Da un'intimidazione alla cultura della legalità. È nato così il Premio Legalità e Territorio, il concorso bandito dal Comune di Sulmona grazie al risarcimento ottenuto dal Ministero dell'Interno contro atti intimidatori, quelli subiti nel 2022 dall'allora vice-sindaco di Sulmona, Franco Casciani, che rinunciò al risarcimento per metterlo a disposizione di iniziative a tutela della legalità. Come il concorso che questa mattina, presso il Teatro Maria Caniglia, ha visto la cerimonia di premiazione dei vincitori tra gli oltre 100 alunni delle scuole primarie, medie e superiori della città che hanno partecipato con elaborati dedicati al tema della legalità. Disegni, podcast e temi con cui i ragazzi hanno espresso la propria idea e di quanto sia importante difenderla, anche in un territorio come il nostro, nel quale resta fondamentale non abbassare la guardia. Il raccordo legalità e territorio è fondamentale perché non nascondiamocelo. Io l'ho detto, da quando vivo qua io vivo senza scorta perché sono protetto dalla collettività. A consegnare i premi, una targa e un contributo in denaro per ciascun vincitore, il procuratore ha aggiunto antimafia che ai ragazzi si è rivolta per metterli in guardia dai pericoli, spesso nascosti, della criminalità organizzata. E quando si raggiungono dei risultati probabilmente immeritati per vie brevi, vuol dire che qualche cosa di strano c'è. Sicuramente il facile guadagno è uno di questi. Quello va tenuto sotto controllo. Una cerimonia che ha lasciato spazio anche alle domande dei bambini che ai magistrati hanno chiesto cosa fare per combattere la criminalità. Domanda alla quale in realtà loro stessi hanno già risposto partecipando al concorso e compiendo così un primo passo per sviluppare una coscienza civile e democratica.